ben tornati giovedì gnocchi no scherzavo giovedì costruiamo un set pesante di tre ripetizioni di overhead squat rimanendo però in bottom position per 5 secondi quindi con una pausa a seguire cinque round 400 metri di corsa ormai il tempo ce lo consente e 15 overhead squat pesi e scalature sulla grafica per oggi è tutto ci vediamo domani per un'altra puntata insieme su c per tv e come al solito vi auguriamo io e lo staff una buona giornata